Nella settimana delle comunicazioni sociali la diocesi di Acireale organizza per domani a partire dalle 10 presso il liceo classico Gulli e Pennisi il convegno sul tema intelligenza artificiale, rischi, opportunità e normativa del Parlamento europeo. La conferenza curata dall'Ufficio della Pastorale per le Comunicazioni Sociali in collaborazione con l'attestata giornalistica La Voce dell'Uionio si rivolge agli alunni delle quinte classi e vuole portare attraverso le conoscenze di insegni e relatori i giovani al sano dibattito sulle nuove forme di vita digitale.